Al Grande Fratello sta conquistando l'attenzione del pubblico, la dinamica amorosa tra Federica e Alfonso. Spunta un'indiscrezione che insinua il dubbio, come ogni anno, gli intrecci e le dinamiche sentimentali diventano l'argomento principale del Grande Fratello. Dopo Temptation Island, Federica e Alfonso sono diventati due concorrenti ufficiali. I due hanno partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro relazione. Dopo un falò di confronto in cui sono usciti insieme, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione e di iniziare la conoscenza con il tentatore Stefano. Quest'ultimo entrerà anche lui nella casa del Grande Fratello. Al momento però Alfonso e Federica sono più vicini del solito, cosa sta succedendo? Grande Fratello, Alfonso e Federica vicini. Cosa salta fuori? La speranza di Alfonso di poter recuperare il suo rapporto, continua ad essere viva dentro di lui. Federica ha però sottolineato che i suoi sentimenti sono cambiati e che le cose non andavano bene da tempo. I due inevitabilmente però, stanno condividendo molto tempo insieme. Nelle ultime ore si sono lasciati andare ad un abbraccio sul divano, cosa sta succedendo? Dal profilo social di Deyanira Marzano spunta un'indiscrezione. Secondo alcune voci, il tentatore Stefano le ha provate davvero tutte pur di separare i due e viversi Federica tutta per sé. In un primo momento infatti, la ragazza aveva scelto di uscire dal villaggio con Alfonso. Cosa succederà ora che anche il tentatore farà il suo ingresso nella casa? Il desiderio di popolarità è chiaro, chi partecipa a questi programmi, spera di conquistare l'attenzione del pubblico e di riuscire a costruirsi uno spazio nel mondo dello spettacolo. C'è da dire che Federica è giovanissima, a soli vent'anni si è ritrovata in una dimensione molto più grande di lei. Abituata a vivere la sua vita con Alfonso, ha improvvisamente stravolto ogni cosa e ora si trova nella casa più spiata d'Italia. Tutto questo ha confuso le sue idee? Di sicuro Alfonso Signorini ha preso la palla al balzo, chiedendo all'ex coppia e al tentatore, di diventare concorrenti ufficiali. Il suo desiderio, con grande probabilità, è quello di poter ripetere quanto successo lo scorso anno con Mirko, Perla e Greta. Chissà se Federica e Alfonso finiranno per tornare insieme, il loro rapporto aveva ad ogni modo bisogno di una scossa. La casa permetterà ad entrambi di capire al meglio i loro sentimenti, e soprattutto la strada da prendere. Con l'ingresso di Stefano, la situazione si complicherà di certo. Questa è però la volontà del grande fratello, alimentare tensioni e momenti salienti. Un modo per poter avere in puntata clip appassionanti e tante dinamiche da poter commentare con i coinquilini e con il pubblico. Grazie. 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 Grazie.